accendo il garmin c'è 7.45 ah ok ho tirato a indovinare si chiama GM, giro a Muzzo ok giro a Muzzo dalla nostra location in direzione ovest dell'isola verso Chiesi una sera una sera ma si vedo dove arrivo mamma mia vado talmente piano che non sei alla pendenza lasciamo Zanca chiamata anche La Zanca a comune di Marciana quindi lì c'è il promontorio dietro le piscine di Sant'Andrea ok procediamo guardate a Patresi ora ora i i i i i i i i i abbiamo lasciato Patresi ora stiamo attraversando Colledorano c'è anche una fontana ma che meraviglia via delle a posto siamo 3 2 1 ogni curva uno spettacolo quindi la vediamo la Corsica questo è Chiesi si può provare a scendere un pelino che dici io trovo la signora con l'ombrellone blu e andrei via la scoperta dello scoglio migliore lasciamo Chiesi da Mortigliano al semaforo ok rientro col tramonto madonna pietre che cadono zanca tramonto a zanca la scoperta la scoperta Grazie a tutti.